A pochi giorni dal ventesimo anniversario della morte di Lady Diana, il ricordo della principessa triste si arricchisce di nuovi retroscena, morbosi dettagli e dichiarazioni inedite e inaudite sulle sue condizioni psicofisiche. Dalla stampa che cita il romanzo Diana, vita e destino di Vittorio Sabadin, si apprende che aveva smesso di vedere gli psicologi consigliati da Carlo affidandosi invece ad astrologhe e cartomanti. Nel 1986 il principe Andrea e la moglie Sarah Ferguson erano a cena da una coppia di amici e fecero la conoscenza di Penny Thornton, famosa astrologa, che misero immediatamente in contatto con Diana per farle ritrovare l'autostima e la serenità. Il giorno seguente la chiamò e disperata le disse, volevo soltanto vedere se c'era una luce alla fine del tunnel. I loro incontri durarono due anni, poi sopraggiunse Debbie Frank che le suggerì di rivolgersi direttamente ad uno psichiatra e Felix Lyle che la reputò autodistruttiva ed imprevedibile. Il ritratto di una Lady Diana infelice, non soddisfatta, impotente di fronte ai problemi che la affeggevano viene in un certo senso rafforzato dalle dichiarazioni diramate al Sun dal suo segretario particolare Michael Gibbons, secondo cui la Spencer non amava realmente Dodie Al-Fayed, ma voleva soltanto divertirsi un po' e farsi una vacanza sullo yacht a spese degli altri. Il 28 agosto, dunque, tra qualche giorno sul National Geographic sarà trasmesso il documentario Lady di Le Verità Nascoste e siamo sicuri che emergeranno altri particolari ancora misteriosi su una delle personalità più fragili e affascinanti del nostro tempo.